Emozioni tantissime. Ricordavamo che andavamo a scuola e seguivamo il Napoli fin dal ginnasio, anche prima. Ti dà quel senso di appartenenza che magari provi già quando vedi la partita, è molto affascinante e ti fa pensare effettivamente che fai parte di una storia. Mi sono ricordato che 30 anni fa festeggiamo insieme a loro lo studente. Il periodo di Maradona è stato quello più bello perché i risultati erano esorbitanti. Ci siamo incuriositi molto a vedere i palloni di cuoio, quelli cusciti con lo spalle. Il pirato mi ha incuriosito molto è il fatto che già nei magari anni 50 anni 60 già c'erano i vari gadget. Per chi è appassionato di calcio penso che valga assolutamente la pena. E qua avete tutte le cose che alcune cose non sono mai viste. E' uno scarpino particolare che magari vado a usare bugatti. Emozioni veramente forti. Emozioni veramente forti. Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti.